Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dedicato a Warhammer 40.000 Battle Sector. E' uscito il 21 di aprile il DLC Necron e oggi lo voglio provare insieme a voi. Ve lo voglio presentare con una tipica partita in schermaglia in cui andremo proprio a testare la nuova fazione giocabile, appunti Necrons con 14 unità, leader. Poi c'è tutta una parte di novità anche dedicata alla campagna, procedurale, ma oggi ci focalizziamo sulle schermaglie. Se volete vedere più contenuto dedicato a Warhammer 40.000 Battle Sector, ovviamente consiglio sempre quello di lasciare un pollice in su e anche un commento. E poi mi direte che cosa ne pensate. Buttiamoci in schermaglia. Vi faccio vedere la gestione dell'esercito che voglio andare a utilizzare. E' la seguente. Utilizzeremo un Plasma Answer che ha svariate abilità. Le scopriremo magari quando siamo in gioco. Comunque è un'unità corpo a corpo molto forte. Poi ci sono delle unità più deboli, i Warrior, che però hanno questa particolare peculiarità dei Necron, che è il Reanimation Protocol. Questo permette tra un turno e l'altro di avere una possibilità, non è certa, ma un 50% di curarsi. Quindi di rivitalizzare le unità che sono cadute. Accanto ai Warriors ci sono gli Immortal, che sono dei Warrior con dei fucili più grandi e più potenti. Il famoso Gauss Blaster. E poi abbiamo, giusto per non farci mancare niente, anche uno Scorpet Destroyer. Che possiede queste due lame che utilizza come melee. E ha a sua volta il Reanimation Protocol, ma non soltanto perché riesce a fare degli attacchi molto molto potenti, che hanno anche delle chance di distruggere una delle armi che vengono utilizzate, appunto i Destroyer. Quindi, mancano i Canoptic Scrab Swarm, cioè gli Shami di Scarabay. Queste sono delle piccole unità kamikaze. Praticamente si lanciano contro il nemico ed esplodono. Infatti costano molto poco, sono riuscito a metterne due. E così me la faccio andare bene. Andiamo a vedere l'inizio della schermaglia. Giocheremo su una mappa casuale, Settlement, perché no? Objective Exterminatus, quindi dovremmo cercare di distruggere i complementi del nostro avversario in, diciamo, sei turni. La nostra fazione sarà quella dei Necrons e l'Army Size, appunto, quello piccolo. L'abbiamo appena selezionato. Combatteremo contro i Blood Angels, facciamo così. Autogenerato, anche in questo caso, 1500. Clicchiamo su Begin e andiamo sul campo di battaglia. Per iniziare a vedere che cosa ci si para davanti. Allora, questo è il campo di battaglia. Ci sono diversi edifici che valgono da ottime difese. Credo che... Vabbè, penso che i Blood Angels praticamente sbuccheranno da questo lato. E loro a volte dovranno dribbare questi edifici e poi si troveranno contro di noi. Questa è una zona ben difendibile, onestamente. Io preferirai tentare di prendere magari il controllo del terreno alto. E mettermi qui in difesa. Vediamo se funziona. Allora, teniamo indietro i piccoli scarafaggi. Metteremo in avanti i Warriors, che devono cercare comunque di prendere il controllo del territorio in fretta. E poi teniamo indietro due unità di Immortali. Una di Warrior e una di Immortali. Facciamo così. Ok, procediamo. Il primo turno va al Plasma Answer, che... Vediamo un po' che skill ha. Allora, ha un attacco di lancia... A distanza. Un attacco di... Ah, no, scusate. Un attacco a distanza e un attacco ravvicinato. Vedete, leggete il Melee. Poi abbiamo un Quantum Orb, che permette di lanciare una colonna di energia, che fa un grande, grande danno. Wow. Allora, facciamo una cosa. Mettiamolo per il momento qui dietro, in copertura. Poi scopriremo le sue abilità nel tempo. Però intanto lo mandiamo avanti per primo. Questi Warriors tentano di raggiungere subito la copertura. Stesso discorso per lo ScorpTech. Mentre le altre unità raggiungono quello che riescono. Perché poi tenterò veramente di... Fare il possibile. Vediamo se... Riesco a dare copertura praticamente a tutti. Ok, credo di aver mosso chiunque. Adesso chiudiamo il turno e mettiamo in Overwatch coloro che non hanno utilizzato tutti i movimenti. Cioè, tutte le unità praticamente. Wow. Ah, guardate i Blood Angel che iniziano ad aprirsi dei varchi all'interno delle strutture. Questa cosa non l'avevo pensata, onestamente. Quindi questi passano qui in mezzo adesso. Vedete che il gioco ci dice che abbiamo... Abbiamo avvistato degli ostili. Cavolo. Inizia il secondo turno. Prendiamo dei guerrieri. Ah, mi sarebbe tanto piaciuto portarli subito qui dietro. Vediamo se... C'è la possibilità... Di mandare in avanza scoperta questo gruppo. Mentre gli altri... Prendono le difese. Anche in questo caso il Lord lo vorrei tenere dietro. Prendiamo due fronti. Rischioso, ma... Giusto per tenere d'occhio il nemico. Credo di non poter distruggere gli edifici perché non ho granate. Invece... Invece i Blood Angels ne hanno. Ok, iniziamo a portare in avanza scoperta anche questi. E mettiamo tutti gli altri in overwatch. Ok, vediamo un po' se... Penso che in questo turno dovrebbero arrivare... Arrivare i nostri... Eroi. Dovrebbero farsi vedere. Eccoli, eccoli, eccoli. E qui appare il primo... Il primo scout. Questo è un mezzo leggero degli... Dei Blood Angels. Con le mitragliatrici. E addirittura sbucano con i jetpack i primi aggressori. Sono aggressori se non sbaglio. E ovviamente prendono vantaggio delle mie unità non coperte e le attaccano. Ok. Adesso, se queste unità non vengono completamente distrutte, nel prossimo turno c'è una possibilità, vedete, che si rigenerino. E questa è una cosa spettacolare appunto della... Della nostra fazione. Vediamo. Tocca a noi. Allora. Abbiamo qui un landspeeder. Ah no, sono inceptor, scusate. Sono inceptor o landspeeder. È chiaro che in questa posizione, qui siamo messi molto male. Eh, questi... Allora, io riesco ad attaccare con il corpo a corpo qua. Sì, potrei tentare, guardate, di attaccare corpo a corpo, utilizzando gli Scorpion Destroyer, questa unità. Ok, in Overwatch adesso provo a sparare. Mi colpisce un paio di volte, un paio di volte blocco. Dai, carica adesso però. Perché è un'unità relativamente debole rispetto ai miei. No, niente, mi ha bloccato. Forse non ci voleva. Adesso mettiamo qui la copertura di queste unità un po' ferite. E qui abbiamo un 63% di possibilità di colpire. Andiamo. Ok. Ok, miriamo completamente. E tentiamo di distruggere alcuni interceptor. Uno l'abbiamo già ucciso in questa unità. Da solo uno. Adesso tiro fuori anche il mio Lord, super potente. Ma non sono sicuro. Ah, posso usare il test da Wave Discharge, che praticamente va a dare un 50% di riflessi in più ai nemici. Ok, questo però... Scusate, ha gli alleati nel corpo a corpo. Tentiamo. Proviamo ad utilizzare questa abilità. La colonna. Eh, sì. Eh, la colonna fa molto male, ragazzi. La colonna fa molto male. Raga, il Quantum Orb ha fatto molto, molto male. Riusciamo a ritornare in posizione? No. Quindi adesso... Not enough action points, not enough action points. Questo è troppo difeso. Andiamo a sparare da dietro questa unità. Vediamo se funziona. 35%. 68%. Questa... Qui abbiamo una buona probabilità di far danno. Benissimo. Ok. Spostiamoci dall'altro lato. Iniziamo a cercare di prendere il controllo di questa zona. Mettiamo sempre in copertura l'unità. Vedete che qua ne abbiamo appena trovata una. Da questo lato c'è una piccola probabilità di colpire il Landspeeder alle spalle. E lo colpiamo. Ce la facciamo. Facciamo poco danno, ma ce la facciamo. A questo punto iniziamo una piccola operazione di commando. Avrei dovuto fare una cosa diversa, ma pazienza. Quindi praticamente iniziamo a spostare una forza anche a lato, per colpirli a lato. Anche se sappiamo che sicuramente il nemico ha altre unità qui dietro, quindi potrebbero poi farci male. Vediamo quindi se sono rimasti punti azione. No, direi che possiamo chiudere il turno e mettere in Overwatch chi non si è attivato. Ok, vediamo dove si spostano, arrivano di corpo a corpo qui, con le loro motoseghe, le loro spade. Oh, i Blue Danger sono terrificanti. Sono anche divertentissimi da usare, però in questo caso... Squadra Necrons al rapporto. Guarda, guarda come saltano. Mamma mia, qui stanno cercando di rompere il mio attacco ai fianchi. Qui potrebbe diventare pericoloso. Eh, infatti questa unità adesso è in grossa difficoltà. Molto ferita. C'è da sperare veramente nel... Ah... C'è da sperare che si ripiglino a fine turno. C'è da sperare che si ripiglino a fine turno. Cavolo. E adesso anche il rover. Però adesso tocca a noi, vero? No, hanno ancora purtroppo un'unità qui che sta camminando e ci prende di spalle. No, qui siamo scoperti. No, ci bombarda addirittura. Danno è poco, però. Ma quanti sono? Oh, ma che è sta storia? Scusa, ma quanti siete? No, io questa cosa non la capisco, eh. Siete troppi? Siete troppi? Oh, non c'è più religione. Ok, tocca a noi. Ok. Intanto ho alzato il volume delle voci perché mi sembra più divertente. Mandiamo i nostri Canoptek Swarm contro questa unità di assalto. Ovviamente loro reagiscono e sparano. Eh, ma non riescono mica a farli fuori tutti. Perfetto. Io adesso posso spostare i miei qui dietro in copertura. In modo che magari si vadano anche un po' a curare. Qui ho un 49%, qui out of range. Proviamo a sparare. Speriamo di colpirli. Eh, qualcosina fanno, dai. Qualcosina fanno. Taking fire. Assolutamente. E a questo punto... Mi chiedo, da queste distanze posso provare a colpire 42%. Scarsino come potenziale, però spariamo, dai. Ok, sembra che... Allora, questi abbiano tutti fatto la loro mossa. Adesso tocca a quest'altro lato. Attacchiamo la Soul Squad corpo a corpo. E danno che facciamo incredibile. È davvero incredibile. Ok, li abbiamo quasi distrutti. Adesso io mi imbutto fuori con due punti di azione e provo a sparare da questo lato. Vediamo se funziona. 50% di probabilità. Ok. Ok. Unità annichilita, ragazzi. Benissimo. Benissimo, benissimo, benissimo. Diamo ordine ai nostri piccoli scarafaggi di attaccare questo Lenspeeder. E' un po' fastidio. Blocca. Overwhelm. Lo Speeder si ritira. Benissimo. E gli scarafaggi rimangono vivi. Siamo addirittura a spostarli dalla zona di control. Purtroppo qui si prendono dei critici. Questo è stato un errore da parte mia. Ce ne fanno fuori non pochi. Però... Questi sono molto esposti, quindi... Danneggiamoli il più possibile. 80%. Vai. Il danne è poco, eh. Questi interceptors sono davvero coriacei. No, dai! Dov'è il nostro signore? Potentissimo. Plasma. Lens. Vai. Oh, bene, 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 bene. Questo era quello che mi aspettavo. Finalmente. Ok, c'è ancora un'unità che può sparare. Attacchiamo lenspeeder. Ed è distrutto anche lenspeeder. Signori, in un solo turno abbiamo messo fuori uso non poche unità. Magari proviamo a ripiegare, se possibile, in modo da... Questa è una bella cosa. In modo da magari attirare il nemico, non dico in trappola, ma... Convincerlo a scendere. Quindi questo lato l'abbiamo chiuso. Questi invece aspettano. Dall'altro lato... Dall'altro lato va bene così. O quasi. Ok, c'è ancora la possibilità di fare un attacco. A questo punto cosa facciamo? Ce ne freghiamo? Avanti. Chiediamo il turno, mettiamo in overwatch tutti gli altri. E adesso tocca ai Blood Angels. Purtroppo qui non parte nessun overwatch, ma soltanto una carica in corpo a corpo. Anche se questi si espongono tantissimo ad un certo punto, però... Ah, bene, bene, bene. Vedete che la nostra unità però si è rigenerata. Ottimo. Ok, il rover si posiziona in una zona, anche in questo caso, secondo me, tatticamente molto sbagliata, però... Mi fanno più paura questi quattro, un accanto all'altro, con le loro granate. Possono fare gravi danni. Ok, ci hanno distrutto la nostra prima unità, i nostri scarafoni. Vedete qui sopra il livello di distruzione? Noi guidiamo con 28 punti contro 2, perché noi abbiamo distrutto molte unità, loro hanno distrutto soltanto gli scarafaggi per ora. Uh, che bel blocco! Non male qua, non male! E anche in questo caso i loro attacchi della distanza sono... Sono bloccati. Abbiamo fatto bene a fare questa sorta di piccola ritirata. Ui! Ti prego non bombe! Bombe! Ti prego! Ti prego, fai il bravo! Bombe! Non c'è niente da fare, ragazzi. I Blood Angels ci odiano. Ok. Adesso toccherà a noi? Assolutamente no. Ora, tocca a noi. Allora, partono delle cure, che mi fa molto piacere. 75% di probabilità di colpire. Ah, fuori dal raggio, ok. Magari ce lo teniamo per dopo. Allora, la prima cosa che facciamo qua... Abbiamo delle buone probabilità di distruggere questo Lenspeeder. E quindi facciamo il possibile. Ah, qua, 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 non va bene. Dai, che ce la possiamo fare. Forza! No, ragazzi, 6 punti ferita così. È una cosa che fa ridere. No, no, no! Gli ho attivato l'Overwatch. Questo è un errore. Questo è un misclick, ragazzi. Non volevo assolutamente farlo. Guardate che danno gratuito che mi prendo. Io volevo semplicemente vedere se ho ancora dei punti azione. Usiamo anche il Lord. E adesso questo è distrutto. Però, a che prezzo? No, metti l'Overwatch in questa direzione. Allora. Proviamo a sparare contro questi Hellblasters che sono fortissimi. Ok, un Unitalia e il Blaster l'abbiamo uccisa. Benissimo. Adesso portiamo questi corpo a corpo dietro. Alle difese. Di sacrifico, eh. Però intanto questi 4 rimarranno qua. Ok, credo che dal lato sinistro si sia fatto tutto quello che si poteva fare. Adesso tocca al lato destro. Qui il danno è... Notevole. Siamo troppo vicini. Probabilmente... Subiamo uno svantaggio. Ok, va bene. Ok, io credo di provare a fare un self-destruction protocol a questo punto su le unità di Intercessor per vedere come funziona. Ma facciamo danno, ma in realtà molto poco. Speravo purtroppo... Speravo che andasse molto meglio di così. Niente, chiudiamo il turno. Non è stato un turno di cui sono particolarmente orgoglioso perché abbiamo distrutto praticamente un rover utilizzando tutti i nostri soldati. Ma va bene. Intanto hanno perso un'unità. E noi qua rischiamo. Queste 4 unità tutte insieme fanno molto danno. Però noi abbiamo più uomini. Il punto è che loro attaccano corpo a corpo e noi siamo da distanza. E questo è uno svantaggio notevole. Granata. Eh sì, dove vanno, perdonatemi. Ma. Ma. Oh, mi stanno praticamente tartassando questa povera unità e me l'hanno distrutta, ragazzi. Abbiamo perso la nostra prima unità vera e propria. Infatti hanno guadagnato 6 punti. Cavolo. Guardate che nella retrovia iniziano ad arrivare altri, eh. attenzione. Sapete cosa faccio a questo punto? Partiamo subito da questo lato. Perché qua c'è un'unità che, insomma, ecco. Volevo proprio dire questo, cioè dobbiamo distruggerla. E a questo punto questi sono interi ma abbiamo un'ottima possibilità di danneggiarli. Vediamo. A questo punto proviamo a vedere se riesco a usare anche questi warriors da distanza. No. No, che sfortuna. Peccato. Allora, carichiamo l'intercessor. Intercessor. Carichiamogli questi. Carichiamo questi. Blocchiamogli, facciamoli tanto male. Due ne abbiamo ammazzati, benissimo. E... Allora. Oh, finalmente usiamo l'abilità speciale del Lord. È il colpo. Abbastanza... Abbastanza un buon danno. On target. Ok. Speriamo questi sulla collina. Ok, 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 ok. Ne rimangono due in piedi. E adesso usiamo il Lord e attacchiamo anche questo intersesso. Vabbè. Poteva andare meglio, poteva andare peggio. Spostiamolo e copriamolo. Ok, credo di avere... ...usato tutti i punti azione che potevo. Credo. Decisamente. Chiudiamo il turno, ragazzi. Chiudiamo il turno. È il sesto. Vediamo se riusciremo ad ottenere la vittoria. Visto che stiamo guidando dal punto di vista del punteggio. Ok. Ok. Questi mi fanno ridere. Si muovono dietro le linee nemiche baldanzosi. Probabilmente mi fanno anche un sacco di danno adesso, però... ...è che sono lentissimi. Non sono la tipica unità che ti attacca le spalle rapida, no? Ah, ah, ah! Voi dove andate? Perché vi... Ah, caspita. C'è niente da fare. Non siamo riusciti a bloccarli con la zona di controllo. Diavolo. Adesso si prendono copertura. Adesso siamo due contro due a destra. E loro continuano con le loro granate. Eh, va bene. Nooo. Dite addio a queste lame verdi fosforescenti. Sono quasi distrutte. Aia! Mega attacco. Ok, tocca a no. Tocca a no e vinciamo. Ragazzi, scaduto il termine dei turni, probabilmente avrei dovuto lasciare otto per vedere completata la schermaglia. Ma vinciamo perché le statistiche sono da parte nostra. Cioè, noi abbiamo distrutto due Interceptor, due Land Speeder e due Assault Squad. E loro ci hanno distrutto molto meno unità, praticamente gli Swarm e uno Scorpio Destroyer all'82% quasi. Ragazzi, questa è la rappresentazione dei Necron. la partita, ovviamente, a Warhammer 40.000, Battle Sector. Spero che vi sia piaciuta. Se volete vedere più contenuto dedicato a questo gioco, ovviamente non esitate a lasciare un commento qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do appuntamento alla prossima.